Grazie presidente. Io credo che questo proposto di referendum che stiamo discutendo oggi nasce dalla volontà chiaramente espressa dai cittadini. Il presidente Galli prima parlava di firme raccolte con albi, con messi che giravano, ricordava i tempi dell'università quando io non ero ancora nato, che si giocava con Ruth Gullit e non so cos'altro. Qua parliamo, per tornare seri, di una raccolta firme fatta da delle persone che certificano queste firme, che si prendono la responsabilità penale di quello che certificano, quindi eviterei questi cenni, questi toni, non stiamo scherzando, stiamo parlando davvero di un fatto molto importante. Sicuramente l'esito dei referendum che ci sono stati domenica è significativo. Io voglio vedere, come Movimento 5 Stelle, vogliamo vedere bicchiere mezzo pieno. Noi abbiamo nel nostro programma elettorale l'accorpamento dei comuni sotto i 5.000 abitanti. Chiaramente prima dell'accorpamento e prima di una volontà dirigistica siamo per l'espressione popolare. Abbiamo visto che la metà delle proposte di fusione e degli iter di fusione sono stati accettati ai cittadini. Vuol dire che è stato fatto un percorso coinvolgendo i cittadini e si è arrivati a una proposta e un'accettazione da parte della cittadinanza di un modello che sicuramente va verso un efficientamento dei servizi, quindi nell'interesse del cittadino, e una riduzione dei costi, visto il momento, mi sembra una cosa direi alquanto fondamentale. Detto questo stiamo parlando di tre comuni che sono tre comuni modello. Già nel 1997 sono stati i primi comuni ad andare in regime di unione dei servizi. Oggi i comuni, e questo ce l'hanno testimoniato anche in sede di commissioni congiunte, i sindaci vedono già un unico ufficio che eroga dei servizi. Hanno notato un netto efficientamento, un netto miglioramento della qualità dei servizi erogati e ci sono stati dei risparmi considerevoli. Quindi non possiamo che andare nella direzione di migliorare davvero il servizio al cittadino e una riduzione dei costi che in questo momento dove agli enti locali è chiesto di non tirare la cinghia di più, sicuramente è un elemento molto positivo. Dopodiché io sinceramente sono rimasto un po' basito, ci eravamo ripromessi in commissione che la valutazione sugli esiti referendari avremmo dovuto farla e presentarla prima dell'esito dei referendum. Questo per molti gruppi non è stato, noi entro lunedì scorso abbiamo mandato la nostra valutazione, che è quella del rispetto alla volontà popolare. Perché qua sappiamo che c'è stata una raccolta firme, in questo caso, con la maggioranza dei cittadini di ogni comune che chiede di avviare l'iter. Abbiamo cercato di forzare la mano e di chiedere di andare, è vero in deroga, perché c'era una chiara volontà, una chiara espressione popolare, però chiedevamo anche di dare una certezza ai cittadini. I cittadini non possono andare al referendum non sapendo come questi referendum vanno valutati. È un'assurdità, noi dobbiamo dare delle certezze. Quindi sicuramente va rivista la legge sia nella fase di raccolta, perché è vero che è stata una raccolta fatta senza regole, non è stata irregolare perché non esiste un regolamento che normi come va fatta questa raccolta firme. Però noi dobbiamo dare anche delle certezze sull'esito del referendum, nel senso che se chiamiamo i cittadini ad esprimersi, i cittadini devono essere certi che la loro volontà poi sia rispettata. Io ho visto ieri mattina, dopo che si è saputo l'esito del referendum, ad esempio la posizione del Partito Democratico che chiede che non si valutino i no se non oltre il 60%, che mi pare un'assurdità, perché io ritengo che se la maggioranza è rappresentata al 50% più 1, è il 50% più 1. Non il giorno dopo il referendum diventa il 60% perché forse c'è qualche interesse. Peggio ancora, l'hanno fatto altri gruppi come Nuovo Centrodestra o come Forza Italia che non hanno neanche presentato quali sono le loro opinioni in merito, quindi non è stato possibile nemmeno avviare una discussione in merito. Per me è questo grave ed è una grave mancanza, una grave carenza nei confronti davvero della cittadinanza tutta, che è chiamata ad esprimersi in merito alla propria autonomia locale e non sa come sarà valutata. Adesso ne vediamo comitati per il sì che hanno visto un Paese esprimersi per il no che chiedono che sia rispettata la volontà popolare, dall'altra parte i comitati per il no che ha vinto il no e chiedono che sia rispettata. E noi abbiamo dato spazio a queste strumentalizzazioni perché ancora una volta la politica è arrivata dopo i cittadini. Ed è una cosa che ci eravamo ripromessi tre mesi fa, non abbiamo fatto una cosa in due giorni che uno dice ha bisogno anche in democrazia all'interno di un gruppo di un ragionamento più ampio e condiviso. Era una cosa che è durata mesi e noi ci siamo trovati oggi e oggi noi non sappiamo cosa rispondere ai cittadini o meglio il Movimento 5 Stelle sa che è cosa rispondere ai cittadini. Il Consiglio regionale non ha idea di cosa rispondere ai cittadini in merito all'esito del referendum, quindi penso che ne vedremo delle belle purtroppo, sempre a scapito dei cittadini, su quello che è l'esito del referendum. Per quanto riguarda l'aderoga, e qui chiudo, è stata una deroga per la volontà sicuramente dei cittadini chiaramente espressa, è stata anche una deroga perché la Giunta non ha dato un chiaro parere, un chiaro orientamento su come intendeva procedere. Secondo noi un aumento dei costi che sarebbe generato poi dalla votazione sarebbero andati a elezioni due comuni su tre, si sarebbero spesi soldi per le elezioni, eletti due sindaci e poi in caso di esito positivo si sarebbero commissariati, quindi con un netto aumento di costi, in contrasto con quella che è la politica delle fusioni. Quindi assolutamente, ne avevamo chiesto con urgenza alla Giunta di darci un parere, la Giunta non si è espressa in merito, sulla base della richiesta chiara dei cittadini abbiamo scelto di fare un atto che ricordo essere prorogativa di un consigliere. Quindi non siamo andati al di fuori delle regole, eventualmente siamo andati al di fuori della prassi, però l'abbiamo fatto per accelerare i tempi e per burocratizzare quello che la Giunta aveva burocratizzato. E ricordo, qualche collega mi aveva ricordato anche l'esempio di Bigarello, Bigarello era l'unico dei 19, quindi su 19 richieste 18 erano passate con la richiesta del Consiglio d'urgenza e la diciannovesima per ragioni politiche non era stata passata. Una figuraccia, tant'è che oggi abbiamo visto che gli abitanti di Bigarello si sono espressi per il no, quindi tutto questo rumore, questo fracasso che è stato fatto per il nulla, tutta questa burocratizzazione, tutto questo non voler chiedere il parere ai cittadini, pensando che i cittadini siano stupidi e non ragionino sulle cose, è stato smontato. Era chiara, ed è stata chiara il mio modo di vedere l'espressione dei cittadini di quel paese, la Lega in questo caso per motivi politici e per ideologia aveva deciso di non farli esprimere, qui abbiamo fatto una forzatura come gruppi politici, siamo arrivati all'espressione, ora i cittadini si sono espressi e io chiedo a questo Consiglio che sia rispettata la volontà espressa dei cittadini. Quindi sono contento comunque che nonostante tutto siamo riusciti a condividere questo percorso, ad arrivare oggi a portare in aula questo provvedimento con la votazione di tutta la Commissione e quindi spero che velocemente poi venga anche calendarizzata dalla Giunta di modo che i cittadini anche qua si possano esprimere prima del 26 di gennaio, termine ultimo, lo diceva anche il collega Barboni prima, termine ultimo per poter in caso di esito positivo in tutti i tre comuni andare a fusione entro il 24 di febbraio e quindi andare a elezioni col prossimo 25 giugno e davvero generare quel processo virtuoso di cui l'Italia ha veramente bisogno giorno dopo giorno. Sì grazie Presidente, non abbiamo mai pensato alla mala fede, abbiamo solo espresso quelle che erano le nostre perplessità, sono state rinviate più volte i procedimenti con delle motivazioni che per noi non erano accettabili, era già successo in passato con un altro esempio e almeno per quanto mi riguarda ho tenuto a ribadirlo per questo caso. Noi chiaramente voteremo favorevolmente al fatto che i cittadini possano esprimere la loro idea in merito alla propria realtà territoriale e poi chiaramente prenderemo atto di quello che decideranno. Quindi chiedo e ribadisco ancora una volta, oltre al voto favorevole, che si rimetta a mano anche velocemente alle regole in vista poi dei nuovi iter che verranno avviati il prossimo anno e gli anni a seguire, di modo che potremo davvero dare delle certezze ai cittadini e riuscire ad avviare quei processi virtuosi che porteranno a una razionalizzazione seria ed efficace del nostro Paese. Detto questo, chiudo dicendo che chiedo al senso dell'articolo 78 la votazione per appello nominale a nome mio del collega Buffagni, collega Carcano, Maccabiani e Nanni.